eccoci di nuovo a commentare un altro dpcm del presidente del consiglio ora ne fa uno a settimana forse ne faranno uno al giorno ma cosa c'è dietro a questa sigla dpcm c'è una incapacità di governo ma c'è anche una forte indifferenza del governo nei confronti di vasti strati della popolazione italiana di chi vive del proprio lavoro penso gli artigiani i commercianti ai professionisti penso ai lavoratori alle centinaia di migliaia di lavoratori che perderanno il posto di lavoro grazie a questo dpcm eppure avevano il tempo avevano il tempo per acquistare autobus avevano tempo per evitare l'imbuto della concentrazione delle persone nelle ore mattine nelle ore serali di ritorno dal lavoro potevano affittare autobus potevano cambiare gli orari di entrate di uscita del settore statale dei lavoratori statali potevano cambiare gli orari di entrata delle scuole e invece si hanno dato banchi a rotelle monopattini potevano costruire una sanità di prossimità territoriale che sarebbe andata nelle case delle persone sapendo distinguere quindi tra i malati contagiati che sono cose diverse evitando di ingolfare gli ospedali evitando che i malati di tumore evitando che i malati cronici evitando che i malati di infarto possano aspettare inutilmente le cure hanno distrutto la sanità pubblica continuano a farlo avevano sei mesi di tempo non hanno fatto nulla è un governo davvero forte con i deboli ma è un governo debole coi forti lo avete visto quando hanno dato i miliardi alle fca che poi si è messa a produrre la panda in polonia lo avete visto quando stanno ancora a contrattare con benetton per autostrade lo vedete con amazon che imperversa nel nostro paese pagando tasse irrisorie che i lavoratori dipendenti e i commercianti si sognano è un pessimo governo ma anche una pessima opposizione una opposizione di destra salvini meloni che di fatto non combinano nulla bisogna cominciare davvero a ragionare ad un cambio di sistema un paese che non sa proteggere la propria popolazione un paese che si ostina appunto a guardare ai grandi potentati alle multinazionali alle grandi banche tra poco ci propineranno il mess e saranno soldi a strozzo la situazione deve davvero cambiare dobbiamo ragionare tutti assieme per costruire un cambio radicale di sistema